Entrano nel vivo a Campobasso le iniziative per la ricorrenza del Corpus Domini che avrà il suo momento centrale nella sfilata dei misteri. Al tradizionale appuntamento in questa occasione potrebbe partecipare anche il vicepresidente del Consiglio e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, come ripetuto più volte anche all'indomani del ballottaggio vinto dal sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina. Tra le varie iniziative la mostra La forma e il mistero, un percorso espositivo dedicato allo scultore campobassano Paolo Saverio Di Zinno, ideatore delle macchine volanti in programma dal 22 giugno al 12 luglio al palazzo della ex Gil. L'obiettivo è quello di raccontare la capacità dell'artista di rendere attraverso la meraviglia degli occhi la pienezza dello spirito. Ciascuna scultura sarà accompagnata da testi che offrono al lettore una visione completa nella quale la forma e il mistero si intrecciano e si completano a vicenda. Da giovedì mattina giorno in cui il sindaco e le associazioni presenteranno il cartellone del Festival dei Misteri, la parte del centro storico interessata dalla sfilata degli ingegni sarà imbandierata con i vessilli delle confraternite di Sant'Antonio Abate, dei Crociati e dei Trinitari. Da sei anni l'iniziativa è stata introdotta dall'Associazione Pro Crociati e Trinitari che cura anche l'imbandieramento di Palazzo San Giorgio presidiato da un picchetto d'onore in costume cinquecentesco. L'Associazione Misteri e Tradizioni curerà come sempre la sfilata con la vestizione e il rientro degli ingegni al Museo di Via Trento. Daniela Ruzzi 23 anni di Campobasso sarà la donzella e lei il personaggio più atteso con il diavolo che la tenta, icona della processione che si ripete da più di 250 anni per le strade di Campobasso. Passato in sordina, fatta salva la sfilata di dicembre, il trecentesimo anniversario della nascita dell'inventore di queste straordinarie macchine volanti, Paolo Saverio di Zinno. Un volo che ha attraversato i secoli e che continua ogni anno a far tenere il naso all'insù a decine di migliaia di persone che invadono la città per assistere alla tradizione più amata dai Campobassani.